cari amici buongiorno buongiorno per tutto il giorno ma anche per i prossimi giorni no allora vediamo si vede l'albero di natale sì perché un po sì ok perché il periodo si avvicina e e quindi c'è l'albero di natale allora salutiamo i miei amici che mi seguono in web e non ho novità da darvi particolari il periodo è un po difficile per me perché ci sono cose da sistemare ma sistemeremo tutto no preghiamo sempre gli angeli vero micio amico cosa dici ecco ha detto ha confermato anche micio tre secondi di concentrazione si è concentrato anche il gatto il bello della diretta che anche micio dice la sua vero micio davvero cosa dici sentiamo i passi di il nostro amico delta che mi sta guardando ecco e micio sta dicendo la sua non so se si è sentito ma dai si sente mi micio dopo questo qualche secondo che aveva tenuto compagnia vi rimando ai prossimi video che farò non posso mettere la mano qua perché adesso visto c'è l'occhio che vede anche la mano sennò quindi vi rimando al prossimo video che sarà non ci cioè ci sarà non ci sarà ci sarà quando ci sarà non lo so dobbiamo dobbiamo vedere perché il periodo è un po strano no allora e i contatti mistici cioè ci sono però notizie non me ne danno particolari io lo so che c'è chi che ci aspetta o si aspetta o è curioso delle novità ma non mi stanno dicendo cioè mi stanno facendo da capire i miei contatti angelici cioè o meglio quelle quelli che mi le guide angeliche che ci sono qua intorno che sento non non mi hanno dato messaggi particolari da darvi cioè non dico che non ci siano magari novità no a riguardo ecco quindi alla fine qualche nozione la do lo stesso vale ormai che ci sono in una ridere perché mi piace mi piace un senso di energie che ogni tanto ci sono comunque vabbè il fra fra parentesi allora non è che spieghiamo quindi alla fine c'è mezzo messaggio poi non è che non vogliono dare messaggi i miei amici angeli i vostri amici angeli i nostri amici angeli non sono solo miei sono vostri sono nostri fratelli ci sono dei periodi che c'è per me è normale abbastanza normale che ci sono dei periodi che non non vogliono dare messaggi non è non è descritto bene ma non è cioè non è che non vogliono ma decidono così per questioni di di diciamo di istruzione mia personale e così è anche per voi o chi te adesso che mi segui quindi ecco che alla fine mezzo messaggio c'è non avevo in mente di darlo ma si collegano e quindi io dico no quello che pensano già non vuol dire che qualche altro canale sensitivo canalizzatore si canale si canale medium eccetera forse il medio non mai qualcuno non piace come termine comunque qualche persona sensitiva magica no diciamo chiamiamola magica ciò non vuol dire che questa non dia messaggi cioè magari voi girate in web e trovate oggi un video un messaggio un blog dove scrive con la data di oggi che c'è qualche messaggio angelico ed è giusto che questo messaggio lo di quella quella persona in questo momento solamente in questo momento da parte di questo sensitivo che mi definisco sensitivo perché sono sensibile sento sento molte cose compresi anche gli errori che posso fare ecco in questo momento non ci sono messaggi particolari e non mi sto invitando né ad andare a trovare un altro sensitivo né a fare il contrario cioè io sono venuto qua a salutarvi e darvi il saluto perché so che c'è qualcuno che desidera i miei saluti e poi alla fine dai saluti spesso e volentieri c'è questo specie di contatto di energie contatto anche con voi che mi seguite quindi da messaggio breve che intendevo anche fare sia anche un po dilungato insomma non ci lamentiamo mi dispiace che in questo periodo ci siano difficoltà in giro per il mondo me compreso no a volte mi consola dire c'è c'è chi che è preso peggio perché finché sono qua che riesco a fare anche qualche video vuol dire che non sono proprio preso fin qua no e quindi ringrazio il signore ringrazio gli esseri superi superiori nel senso gli esseri che guidano la natura dell'esistenza di tante cose che mi concedono ancora che mi concedono di fare video ecco e tante altre belle cose insomma non solo queste una delle belle cose è regalarvi un sorriso regalarvi un sorriso e spero di 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 ampliarli sempre di più questi sorrisi per me e per voi quindi è giusto che che adesso vi saluti e vi auguro sempre buone cose prospere e al prossimo video ciao ah c'era anche lui saluti cosa dici salutiamo sì dai salutiamo so che tu hai fame ciao a tutti